Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio appena pubblicato da Vita e Pensiero dal titolo La legittimità dell'immagine. Il concilio Niceto II e i dibattiti sull'immagine come luogo teologico di Roberto Quero, che abbiamo il grande piacere di avere il nostro ospite per parlarci di questo interessante volume e al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola appunto perché ce ne parli. Prego Quero, a lei. Bentrovati, bentrovati a tutti e a tutte e grazie di questa possibilità. Per me è davvero la prima volta, nel senso che è la mia prima pubblicazione e quindi è la prima volta a Milano. Dico giusto due parole per presentarmi. In realtà io sono un frate minore, come si può vedere, e sono a Milano dall'anno scorso perché in occasione del centenario che ha portato anche alla canonizzazione della Beata Armida Barelli qui nell'Università Cattolica del Sacro Cuore è partito questo progetto in cui abbiamo aperto una piccola fraternità all'interno dell'Università. Siamo quattro fati, veniamo da tutta Italia, io come si può un po' sentire dal suono della mia voce non sono propriamente bergamasco, insomma, sono pugliese, e quindi questo testo è in concreto la mia tesi di dottorato, il dottorato che ho conseguito alla Pontificia Università Gregoriana a maggio dell'anno scorso e diciamo che il mio ambito di ricerca è vicino all'antropologia e si interessa di questo discorso sull'immagine. Concretamente, andando nel testo, vedendo un po', anche un po' sfogliando l'indice, il lavoro si svolge in due parti. La prima parte fondamentalmente rilegge le sessioni conciliari, stiamo parlando del secondo concilio di Nicea, quindi siamo intorno al 787, ed è uno di quei concili che nella tradizione della dogmatica, e questo è il mio ambito di ricerca, è legato al discorso dell'iconoclastia e quindi in confronto a tanti altri concili, a Calcedonio o al primo di Nicea, diciamo che i contenuti non sono così popolari o così determinanti. E quindi in realtà mi sono avvicinato a questo concilio perché durante il corso universitario una delle mie docenti ha tenuto un seminario e io mi sono appassionato a questo argomento e ho incominciato a frequentare i testi, i testi conciliari, quindi i testi delle sessioni. Quindi la prima parte di questo lavoro ripercorre tutte le sessioni conciliari, però siccome c'erano un po' di personaggi che personalmente non conoscevo, insomma, tipo l'imperatrice Irene che ha indetto il concilio, ma anche alcuni movimenti che emergono nelle sessioni, per esempio i monaci, quindi la vicinanza, l'appartenenza di vita consacrata, diciamo così, a un certo punto escono dal concilio. Quindi mi sono posto una domanda, come mai firmano il documento e poi vanno via? Quindi con queste curiosità ho incominciato a vedere le sessioni conciliari. Quindi la prima parte mi sono interessato del come si arrivasse al discorso sull'immagine, cioè come questo discorso entrasse in un concilio. E di fatto la cosa interessante è che le immagini, cioè la sensibilità verso la rappresentazione dei testimoni, diciamo così, di quelli che avevano vissuto in pienezza la fede, quindi era quasi un ricordo affettivo, si erano già diffuse. Quindi il concilio recepisce una realtà che già era diffusa, quindi una realtà che era vista forse considerando anche l'eresia, insomma, i movimenti del periodo, la riflessione sulla divina umanità, insomma, sono tante le questioni. Il concilio recepisce questa tradizione e quindi si esprime a favore di questa tradizione, anche sentendo quelli che un po' l'avevano osteggiata. Quindi ritornando al particolare dei monaci che a un certo punto escono, ma che sono prima convocati, questo la dice lunga sul fatto di una persecuzione, cioè all'inizio sono stati perseguiti anche fisicamente quelli che proponevano un'immagine, cioè conservavano un'immagine. Va bene? Quindi c'è questo primo movimento. Poi entrando nello specifico, ho tentato di isolare nel testo quelli che sono i contributi a livello cristologico, a livello ecclesiologico e a livello antropologico. Quindi già nelle sessioni conciliari mettere in evidenza quali erano i contenuti importanti, scusatemi, e alla fine ho tentato di sistemare un po' tutte le informazioni. In realtà nella mia idea originale all'inizio avevo intuito che il Damasceno, gli scritti di Giovanni Damasceno, fossero importanti in una sorta di regia, in una sorta di raccolta di testi e quindi ho iniziato prima di tutto con questa ipotesi. Poi negli anni di studio, verificando e anche arrivando alle volte, almeno per me, a un punto morto, non riuscivo ad andare avanti, ho calibrato meglio il discorso e guardando proprio la ricorrenza dei testi, cioè i testi dei padri che venivano utilizzati, ho compreso, o meglio, ho evidenziato un contenuto importante legato alle immagini. E noi sempre, anche oggi, quello che diciamo sempre dell'arte sacra, dell'arte che poi è arrivata nella tradizione latina, che è la nostra, che quindi ha avuto una ricettazione, una storia di ricettazione, noi sempre diciamo, quasi un po' semplicisticamente, per rendere immediatamente l'idea, che gli affreschi e da lì in poi tutto il resto sono la Bibbia dei poveri, no? Per chi, semplicemente diciamo, non sapeva leggere. In realtà i padri conciliari dicono qualcosa in più, dicono qualcosa in più, o meglio, legano l'immagine sempre alla parola, la parola con la P maiuscola, quindi alla narrazione biblica. E c'è uno dei padri che dice, io ho sempre letto la storia del sacrificio di Sacco, però quando l'ho vista rappresentata, mi sono commosso. Quindi il discorso è che le immagini permettono un coinvolgimento diverso, quindi quello che fa sempre la differenza è il riferimento alla parola di Dio. Questa, quando viene rappresentata, quindi vengono rappresentate le storie della Sacra Scrittura, in qualche modo i padri dicono che toccano, toccano il cristiano. Da qui l'innesto con il discorso antropologico, cioè quello che io nella seconda parte, quasi a modo di slogan, dico, dal teologico, dal discorso teologico al teologale, cioè alla vita di fede, speranza e carità, considerando che chi scrive è un frate minore e nella tradizione ha un crocifisso che parla al fondatore, quindi un'immagine che in qualche modo dice qualcosa alla vita di Francesco Lassiti. Quindi anche di quando ho iniziato a raccogliere il materiale, cioè su in che senso possiamo considerare le immagini come se fossero vive, ho iniziato a vedere anche i contributi del discorso che quest'ultima parte di storia, diciamo in questo periodo, la modernità ci dice. E quindi ho isolato alcuni concetti, alcuni concetti come la capacità che già si attesta nella tradizione francescana del collegare l'immagine alla predicazione. Per cui le parole sono memorabili perché si ricordano a memoria per il predicatore, ma restano anche nella memoria di chi le ascolta. E allora alle volte le immagini erano un po' queste sintesi, queste sintesi per cui uno guardandole non solo si ricordava della predicazione, ma al tempo stesso era come se se la potesse portare con sé. Quindi c'era anche un'interazione con la città della predicazione. Un esempio fra tutti che ho utilizzato è Bernardino da Siena. Tutti sappiamo dell'introduzione del nome di Gesù, del disco solare con all'interno le lettere che sintetizzano il mistero di Cristo e quindi tra i colori e le parole quello rimandava a una predicazione e quindi erano parole memorabili. In questo passaggio da i testi scritti a i testi proposti nella predicazione. Quindi questo è un primo tassello. Cioè l'immagine ci raggiunge, resta nella nostra mente e diventa la nostra grammatica per prendere le decisioni e quindi pian piano ho fatto questo. Ora siccome quando ho scritto questo testo mi trovavo in un convento a Casa Calenda in Molise, in una casa di eremo, in una casa di preghiera e stavamo tentando di far fare un'esperienza. Cioè da questo il discorso teologico, da questo la vita dei cristiani, cioè attraverso la scrittura di un'icona, cioè scrive un'icona, vivendo con noi, quindi stando con noi, attraverso la predicazione del primo e del secondo ordine, quindi c'eravamo noi frati e c'erano anche le clavisse, in una vita insieme e nel momento in cui l'immagine emerge sulla tavola, emerge anche nella vita dell'esercitante. Perché alla fine ogni studio dice un po' dell'autore, ma vuole anche spingere la riflessione a anche una sensibilità diversa. Quindi il discorso è come ci raggiunge l'immagine. L'immagine ci raggiunge attraverso sempre la parola di Dio e perché le icone si scrivono. Quindi cosa fa la differenza nella nostra storia? Sempre l'analogia e il linguaggio legato a Emmaus, all'esperienza di Emmaus, ovvero non ci ardeva forse il cuore l'esperienza del roveto, per cui il tempo che noi passiamo nella riflessione, nella preghiera della parola di Dio, se la utilizziamo in questo discorso anche legato alla riflessione sulle immagini, come Francesco d'Assisi a un certo punto diventa lui stesso immagine dell'amato. Cioè quello che noi contempliamo in qualche modo ci raggiunge, in qualche modo ci cambia. Quindi se noi togliamo questo aspetto della nostra vita, cioè la riflessione, la preghiera, la parola di Dio, comunque la nostra società ci proporrà altre narrazioni, ci proporrà altri contenuti che in qualche modo scrivono e incidono nella nostra storia. Per cui questa proposta voleva essere un tentativo di dire l'anelito, il desiderio che accompagna gli uomini e le donne di senso, scusatemi, gli uomini e le donne di ogni tempo in questa ricerca di senso. Pensiamoci un attimo, alle volte è difficile fare un discorso teologico, però se noi ci trovassimo ad esempio ad Assisi, nella Basilica Superiore, attraverso la contemplazione di opere d'arte, giotto, potremmo fare forse qualcosa, qualche particolare ci toccherebbe, ci porterebbe dentro quella storia. Quindi contatteremmo l'aspetto di profondità della nostra esistenza. Questo anche nel Magisterio di Papa Francesco ogni tanto, in qualche sua omelia, fa anche riferimento a quali famosi, di autori famosi, per cui attraverso l'arte noi ancora possiamo parlare alla profondità degli uomini e delle donne di tutti i tempi e quindi in questo farci compagni di cammino, compagni di cammino, affiancarci, come l'Antico Testamento, salire su un carro, salire su un carro di una vita che magari si sta interrogando sul senso e lì farsi compagni e far riemergere il volto di Cristo risorto nella nostra storia. Quindi concretamente questo lavoro che tenta e parte da un linguaggio strettamente dogmatico legato a un concilio, si apre ad una possibilità che vuole nel quotidiano trovare una risposta a una domanda di senso, cioè una pienezza di vita a cui io credo che ancora oggi questa cosa possa in qualche modo essere attuale. È interessante anche perché da quel poco che io ne so, perché confesso tutta la mia ignoranza, il concilio di Nicea rappresenta un momento di svolta in una controversia di una violenza inaudita. È vero, la cosa interessantissima, ripeto, che è legata anche alla mia provenienza, è che alcuni dei personaggi sono scappati e sono arrivati nel sud Italia per dire che nella zona di Mottola della provincia di Taranto ci sono delle grotte che portano gli affreschi di questi monaci che erano scappati per trovare pace. Ho molte delle devozioni mariane del sud Italia, posso fare un esempio semplicissimo, che è ad esempio la Madonna della Madia, che arriva quindi su una zattera a Monopoli, sono delle icone di tradizione orientale che arrivano da noi. Quindi il discorso è che quello che noi molto spesso leggiamo della storia ci raggiunge in qualche modo, ci entra nel tessuto culturale e diventa parte anche della nostra esperienza, per cui imparare a capire quello che della tradizione arriva fino a noi è molto bello. Anche c'è un immagino, perché in tutto questo nel testo c'è anche un quadro di immagine essenziale, certo non rende l'idea in pienezza, però per dirvi che a Campobasso, quindi nel periodo in cui sono stato in Molise, a Campobasso, per la festa del Corpus Domini, ci sono delle macchine, delle macchine, cioè delle strutture, elaborate da un grandissimo autore locale, che riportano e raffigurano delle immagini della Sacra Scrittura. E senza portarla per lungo è proprio una costante che arriva anche lì, è proprio il sacrificio di Sacco. Ora, dire che Massimo il Confessore riflette sulla divina umanità e quindi sul discorso della volontà di Cristo nell'episodio del Gezzemani può essere un discorso degli addetti ai lavori, di quelli che un attimino si interessano del linguaggio autologico. Ma se noi consideriamo il sacrificio di Sacco in questo discorso, la fede del popolo, che non è fede di sede B, non è fede dei sempliciotti, come potremmo avere noi una precomprezione, un pregiudizio, la fede del popolo porta nelle tradizioni quelli che sono i contenuti della dogmatica. Per cui la festa propone questa macchina con dei personaggi dal vevo, vivi, che ripresentano il sacrificio di Sacco, e questo episodio ha un eco lontano che parte dal 787 e arriva al 2023. Ancora oggi, quindi, nelle strade delle nostre cittadine, almeno quelle che hanno questo tipo di sensibilità, possiamo trovare queste cose. Il Nord Italia, alle volte, questa tradizione non ce l'ha, quindi nel senso che è diversa. Però, ripeto, è una ritualità, è un aspetto della nostra vita che, ripeto, se non è vissuto viene sostituito da altre ritualità. Quindi è interessante vedere se questo momento comunitario viene meno, quali sono gli altri momenti comunitari che l'hanno sostituito e quali sono le finalità, perché se il riferimento è la storia della salvezza, inserirsi quella storia, ci porta a fare un tipo di esperienza. Ma se le narrazioni sono altre, se la narrazione è commerciale, per dirci ci porterà a innescare un discorso di bisogni, di necessità. Quindi gli strumenti dello studio ci permettono anche un po' di comprendere meglio quello che noi stiamo vivendo. Perché, ripeto, quello che ci abita, in qualche modo, si rende presente nella nostra quotidianità. Quindi avere discernimento e scegliere cosa ci deve abitare è segno anche di una grande saggezza. Beh, molto interessante. Io quindi non posso far altro che ricordare il titolo del volume e evitare tutti all'acquisto, anche per scoprire quanto ci ha raccontato Roberto Quero finora. Il titolo è La legittimità dell'immagine, il concilio niceno secondo e i dibattiti sull'immagine come luogo teologico. Appena pubblicato da Vita e Pensiero e ovviamente scritto da Roberto Quero, che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro ospite e che io ringrazio tantissimo. Grazie a voi di questa possibilità. Grazie davvero di cuore. E a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questa troverete anche tutte le videopresentazioni realizzate in precedenza. Grazie ancora e a presto. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.